Dovrebbe essere in grado, nello spazio di tre anni, di trasportare astronauti americani verso la Stazione Spaziale Internazionale e mettere fine così alla dipendenza dalle navicelle russe Soyuz. Accompagnato dalle speranze della SpaceX, la società che lo ha realizzato, il nuovissimo modulo Dragon 2 ha ricevuto il suo battesimo ufficiale. Di colore bianco, a forma di palla di gomma, più o meno simile a Dragon 1, la prima navicella privata ad attraccare due anni fa sulla ISS, Dragon 2 ha zampe e retrattili e un sistema di propulsione progettati per consentire al modulo di atterrare quasi dappertutto, con la precisione, secondo gli esperti, di un elicottero. Il prossimo viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale, dunque, sarà il primo dal mese di luglio del 2011 a partire dal suolo americano. Da allora, infatti, gli Stati Uniti dipendono totalmente, appunto, dalle Soyuz russe per portare i propri cosmonauti sulla ISS, con un costo complessivo che finora ha sfiorato i 70 milioni di dollari.